prosegue il corso introduttivo ad adobe after effect quest'oggi vedremo come esportare le nostre creazioni le nostre animazioni su un file per poterlo poi utilizzare in altri software come premiere pro oppure per poterlo condividere con altri collaboratori o altri creativi che necessitano del nostro lavoro www.fabioambrosi.it su questo sito troverete gli articoli di questi video tutorial c'è l'indice con tutti gli argomenti che abbiamo affrontato e che affronteremo c'è ovviamente anche il corso introduttivo a premiere pro se volete anche introdurvi al mondo del montaggio iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi video tutorial e cercatemi su facebook la pagina da cliccare e a cui mettere un like è fabio ambrosi eccoci in after effect per questo tutorial utilizzeremo un progetto molto semplice che ho realizzato utilizzando le tecniche che abbiamo appreso finora ho sostanzialmente utilizzato i keyframe per animare la scala per animare una maschera e c'è anche una luce 3d che ancora non abbiamo visto ma avremo modo nelle prossime lezioni per realizzare questa semplicissima animazione l'unico scopo di questa animazione è mostrarvi come esportarla quindi come creare un file fisico sul nostro hard disk da poter utilizzare in altri progetti o da condividere con i nostri collaboratori bene la prima cosa da fare per esportare un progetto after effect è selezionare la composizione che vogliamo esportare potremmo avere più composizioni e in progetti molto grandi e articolati sicuramente avremo più composizioni noi selezioniamo la composizione master quella che contiene il video l'animazione la grafica che vogliamo esportare e con la composizione selezionata andiamo nel menu composizione e scegliamo la voce aggiungi a coda di rendering tasto di scelta rapida control m m di milano cliccando o utilizzando la composizione di tasti appena vista control m verrà aperta una nuova tab tra i vari pannelli delle composizioni chiamata coda di rendering è una coda di rendering a tutti gli effetti perché noi potremmo aggiungere a questa coda quante composizioni vogliamo e esportarle tutte in una volta sola essendo questo un corso introduttivo non entrerò troppo nei dettagli per quanto riguarda l'esportazione sappiate solo che avete la possibilità di personalizzare il codec da utilizzare per il rendering e potete ovviamente dare un nome a vostro piacimento al file che andrete ad esportare iniziamo dalle impostazioni del codec e quindi dalla tipologia di media che andrete a creare clicchiamo sulla voce modulo di output senza perdita è il preset utilizzato ma vedete che qui abbiamo diversi preset noi possiamo personalizzarlo clicchiamo sulla scritta blu e si aprirà questo che è il modulo la finestra che ci permette di scegliere in che modo esportare la nostra creazione innanzitutto il formato possiamo scegliere un evi possiamo scegliere ovviamente anche un mp3 anche se è poco probabile che lavorando in grafica voi possiate e decidiate di esportare un mp3 però la possibilità c'è e due tra le opzioni sicuramente più usate quicktime che ci permette di creare file mov quindi proprietari di apple quicktime oppure sequenze di immagini normalmente quando si lavora in after effect nell'ottanta per cento dei casi il materiale che si esporta poi viene utilizzato per esempio da un montatore video o da altri creativi per proseguire il workflow di creazione del contenuto multimediale quindi quando si consegna un file video esportato da after effect lo si vuole fare alla massima qualità possibile perché chi lavorerà dopo di noi con quel file con quella grafica con quell'animazione dovrà poter avere il massimo controllo e soprattutto dovrà avere la certezza che le informazioni vengano preservate da after effect al software che poi continuerà la lavorazione in altre parole lavoreremo loathless quindi senza perdita di informazioni vi avviso i file che andrete ad esportare in questa modalità saranno file molto grandi molto pesanti parliamo anche di giga e giga di file il che è un bene perché vuol dire che tutte le informazioni che noi esportiamo da after effect vengono preservate ok abbiamo dicevo due modalità principali con cui possiamo esportare grafica da after effect quicktime e una sequenza di immagini quicktime selezioniamo questo come formato ci permette poi di scegliere anche il codec nel corso introduttivo a premiere pro in alto sulla destra ho messo il link a quella lezione ho parlato dei codec e dei formati e in particolare dei codec e dei contenitori riferendomi a quella lezione riferendomi a quanto detto in quella lezione ricordiamo che quicktime quindi mov è il contenitore e noi possiamo scegliere il codec da utilizzare abbiamo diversi codec che possiamo scegliere di utilizzare faccio rivedere quello che ho fatto cliccato su opzioni formato e posso qui scegliere il codec che vado ad utilizzare normalmente possiamo utilizzare il codec animazione ma più che bene perlomeno è molto usato è stato molto usato in passato esistono nuovi codec che è possibile utilizzare di recente adobe supporta il progress anche dai sistemi operativi windows fino a poco tempo fa ciò non era possibile e c'è un codec molto utilizzato di recente che è molto apprezzato che è il cine form gopro cine form quindi scegliete il codec che voi ritenete il migliore per questo esempio lascerò il classico animazione e clicco su ok scelgo poi se utilizzare il canale alfa o meno nel mio file di output se io creo della grafica che ha bisogno di preservare la trasparenza utilizzerò la voce rgb più alfa altrimenti lascerò solo rgb posso anche esportare solo il canale alfa nessuno me lo vieta per questo esempio lascio rgb quindi non esporterò il canale alfa se il file che state esportando deve preservare il canale alfa quindi rgb più alfa mi devo assicurare che la profondità sia in milioni di colori con il più all'estrema destra ok di default è così ma un doppio check fa sempre bene lasciamo rgb e c'è un'altra opzione che può esservi utile se lavorate con l'audio quindi se il vostro progetto grafico prevede dell'audio che la possibilità di esportare nel file che state creando anche l'audio quindi output audio attivato se non esportare l'audio nel vostro file di output quindi output audio disattivato o se lasciar scegliere in automatico ad after effect quindi in teoria se l'animazione che state creando ha dei file audio esporterà anche quei file audio nel file finale oppure diversamente no clicchiamo su ok e a questo punto dobbiamo solo scegliere il nome che vogliamo dare al nostro file di output clicchiamo sulla voce output in navighiamo nel nostro computer fino a scegliere la cartella in cui vogliamo esportare il nostro il nostro lavoro diamo un nome a nostra scelta clicco su salva e a questo punto l'ultima cosa che mi resta da fare è cliccare sulla voce rendering after effect inizia a processare il mio file questo bellissimo suono mi indica che il file è pronto c'è anche un altro modo per esportare composizioni da after effect che prevede la possibilità di utilizzare il media encoder selezionando la nostra composizione sempre nel menu composizione scegliamo la voce aggiungi alla coda di adobe media encoder per il momento mi fermo qui nella prossima lezione faremo un esercizio in cui riepilogheremo un po delle cose che abbiamo appreso fin qui in questo corso introduttivo ad after effect quindi nella prossima video lezione il prossimo tutorial sarà un tutorial pratico in cui creeremo un progetto in after effect utilizzando le forme geometriche utilizzando i testi utilizzando ovviamente i keyframe utilizzando i livelli 3d utilizzando le videocamere utilizzando un po tutte le cose che abbiamo fatto fino ad ora in maniera da fare un riassunto di quanto appreso prima di andare avanti con gli altri capitoli del corso introduttivo ad after effect quindi io vi consiglio di fermarvi di riguardare i tutorial di questo corso fatti in precedenza di commentare i singoli video tutorial se avete dubbi perplessità se volete che io approfondisca qualcosa che non è perfettamente chiaro ovviamente potete venire sul sito www.fabbiambrosi.it per leggere gli articoli dicevo commentare sia gli articoli sul sito sia i video qui su youtube condividete questi video mettete un like se vi sono piaciuti e cercatemi su facebook la pagina è fabbio ambrosi prima di lasciarvi ricordo anche che c'è un indirizzo di posta elettronica a cui potete scrivere non tanto per chiedermi aiuto purtroppo vista la mole di messaggi che ricevo non mi è possibile rispondere a tutti con aiuti e consigli su misura però se avete dei dubbi o qualunque perplessità o argomenti che volete approfondire scrivete a tutorial chiocciola fabbiambrosi.it se vedo che un argomento è particolarmente richiesto ne farò un video tutorial per il momento grazie e al prossimo video tutorial ciao